L'Isernia a calcio a 5 torna al successo dopo due sconfitte consecutive. Lo fa in maniera alquanto convincente. Prima della sosta natalizia, l'avversario di turno è il città di Carnevale Saviano, che ha da poco ceduto alla società Pentra il nuovo acquisto Giovanni Palumbo, il giudice di gara, il signor Caprioli della sezione di Venosa. L'Isernia mette subito in chiaro le cose, sbloccando in maniera immediata la contesa con lo sloveno Biziak. La sua conclusione non è irresistibile, ma vale comunque il vantaggio. Il raddoppio è di Laurenza, abile a farsi trovare pronto sulla linea di porta, sul destro di Bidinotti. Proprio quest'ultimo sigla il 3-0 qualche istante dopo. Tutto troppo facile per i bianco celesti che continuano a giocare sul velluto. Iacovino sfila sulla sinistra e scodellando in mezzo propizia l'autorete sotto misura di Cappella. Scatto d'orgoglio per il città di Carnevale Saviano. Russo viene atterrato in area di rigore. Proprio lui si presenta sul dischetto per il punto del 4-1. Esecuzione abbastanza centrale. Perso un colpo il motore dell'Isernia riprende a girare a pieno regime e va in accelerazione. Biziak fa mano piena e doppietta personale. Sullo scadere del primo tempo si accende qualche scintilla, complice soprattutto la maldestra direzione del signor Caprioli. Soggetta a continue proteste da entrambe le parti che espelle lo sloveno per doppia munizione e allontana Ferrara, componente della società neroverde. Nella ripresa prosegue comunque il monologo Isernino. Iacovino, ben entrato in partita, si vede negare la soddisfazione personale della rete dal palo. Ma il festival del gol continua il suo proseguo, giocata magistrale di Iacovino che spiana la strada a Laurenza per la marcatura del 6-1. Anche Domenico Valletta va a prendersi la sua fetta di torta, tutto suo il settimo gol, con la punta del piede sinistro con il pallone che muore in rete dopo aver colpito il palo. Altra reazione orgogliosa del Saviano che rende meno amara la sconfitta con il gol di De Vivo. A chiudere i giochi è Orlando Bidinotti che al termine di una combinazione di testa a pochissimi centimetri sigla il definitivo 8-2, risultato con il quale passa in archivio l'incontro. Torna a splendere il sole in casa Isernia che prima di riempirsi lo stomaco durante le feste si regala questa vittoria sotto gli occhi del proprio pubblico. Il Città di Carnevale, squadra imbottita di under, resta soppiantata nella penultima posizione con soli 6 punti.